L'ospedale di Atessa nel corso della pandemia ha cambiato faccia affermandosi come presidio sanitario di riferimento della Val di Sangro tramite investimenti pubblici e privati. Dopo il reparto di riabilitazione e quello di radiologia, oggi taglio del nastro per l'endoscopia e il nuovo pronto soccorso. Lo abbiamo fatto tenendo i conti in ordine, ha detto il presidente Marsilio. Questo poi è la ciliegina sulla torta perché avremmo avuto buone ragioni per presentare bilanci in deficit e andare a raccontarlo e a spiegarlo. Nonostante il governo non ci abbia risarcito di tutti i soldi spesi per l'emergenza Covid, noi siamo riusciti a tenere i bilanci in ordine, compresa l'asle di Chiedi che era quella che partiva peggio di tutte perché da anni ormai si è stratificato un deficit strutturale in questa asle che il dottor Schell sta in qualche maniera raddrizzando e risanando in maniera altrettanto strutturale, questa è la cosa più importante. La rivoluzione della sanità da tessa è cominciato quando qui furono ricoverati i pazienti contagiati dal virus. Il Covid ha salvato l'ospedale, le parole del direttore della ASL. Chiaramente abbiamo anche usato i fondi Covid messi a disposizione dal governo per ristrutturare questi riparti Covid abbiamo trattato più di 400 pazienti delle prime ondate in questo ospedale, per cui senza il Covid, senza cogliere l'occasione di prendere questo rilancio anche dal punto di vista dell'investimento, penso che a tessa oggi sarebbe destinato a morire come tanti ospedali piccoli di questo paese. Grazie.